La mostra parasimpatico di Pepinotti Rista è la prima ritrospettiva dell'artista svizzera in Italia. Come indica immediatamente il titolo si tratta di una mostra che l'artista immagina sia pensata per i nostri occhi ma anche per i nostri corpi. Il parasimpatico è quella parte del sistema nervoso che presiede alle funzioni più istintuali, istintive, più alla conservazione dell'energia, quindi insomma quel complesso di sensazioni che sono al di là del nostro controllo razionale e tutta l'opera di Pepinotti Rista in un certo senso è una stimolazione, un massaggio per usare una parola che l'artista ha utilizzato per il titolo della sua altra grande retrospettiva in corso al momento alla Hayward Gallery di Londra, quindi un massaggio dei nostri occhi, un massaggio anche del nostro corpo e delle nostre emozioni. Tutta l'opera di Pepinotti Rista è una riflessione sul luogo e la collocazione delle immagini e da una parte l'artista ha voluto renderle sempre più volatili, in un certo senso sempre più pervasive, non a caso l'influenza di MTV, dei videoclip, della cultura musicale molto presente nell'opera di Pilotti Rista e quindi è un'idea dell'immagine, dell'immaginario come sostanza volatile che si infila in ogni angolo del nostro vissuto e che diventa una sorta di colonna sonoro, di colonna visiva del nostro vissuto. Dall'altra le sue immagini si sono slabbrate, si sono fatte sempre più vaste, più ampie fino a diventare architettura. Già alla biennale del 2003, se non sbaglio, quando rappresenta la Svizzera e installo una bellissima opera a San Stai, in questa chiesa, ed è l'opera che peraltro si ritrova anche nella mostra Parasimpatico, nella galleria del cinema Manzoni. Ecco, a partire da quella data in particolare, Pepinotti Rista immagina i suoi video come dei grandi affreschi in movimento, come delle grandi macchine barocche o rocco co che spalmano letteralmente le immagini sulle architetture. E' questo un aspetto che Pepinotti ha deciso di approfondire in questa mostra al cinema Manzoni, mescolando opere più recenti, opere nuove, nuovi editing di vecchie opere, tra cui spicca, credo bellissima, l'installazione sullo scalone centrale che è per la prima volta visibile dopo la sua mostra nel 2009 al Museo d'Arte Moderna di New York. L'artista diceva che in un certo senso è una mostra in cui le immagini accarezzano questa sorta di gigante addormentato che è il cinema Manzoni, lo cullano per metterlo a dormire forse per l'ultima volta e di fatto le sue immagini si espandono sull'architettura, ne diventano una pelle, ne diventano una nuova epidermide e appunto cullano e accarezzano il cinema. Ancora più affascinante credo sia come il cinema Manzoni diventi un corpo ma soprattutto un corpo femminile, anche questo è un aspetto tipico dell'opera di Pepinotti Rist e se vogliamo anche critico dell'industria cinematografica che produce dive ma produce anche immagini assai stereotipate del femminile. Nel mondo di Pepinotti Rist ci sono bellissime ragazze, bellissime donne ma che sfuggono dagli stereotipi più scontati del cinema hollywoodiano, si trovano invece come delle gigantesche divinità. Ci sono queste bellissime donne dai capelli rossi e in una delle opere Homo sapiens sapiens c'è una sorta di descrizione del paradiso terrestre in cui invece di esserci Adamo ed Eva ci sono solo tantissime Eva che vivono in perfetta armonia e senza compiere alcun peccato originale o meglio compiendone tutti, compiendoli tutti ma senza sensi di colpa. Credo che questa mostra in un certo senso mi fa pensare alla Eva di Niki de Saint-Fal, questa bellissima scultura in cui il pubblico entrava letteralmente nel corpo di questa madre mitologica e in maniera molto simile il cinema Manzoni diventa una specie di grande grembo nel quale siamo immersi e nel quale ci perdiamo.